Il maggior numero di siti e di acro, di ritenuti in tutto il mondo. Si gioca in sala e in seguito, che vediamoci, gli italiani non solo italiani, arrivano dal paresotto per la sede della vicenda sede dell'arrivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.